Bene, era il 1966 quando fu costituita la prima strada del vino in Italia ed era ovviamente la strada del Prosecco. Strada che in queste ore ha organizzato un'interessante conferenza per mettere a fuoco l'andamento della candidatura all'UNESCO del nostro territorio del Prosecco di OCG. Vediamo il servizio. Strada del Prosecco e vini dei Colli Conegliano e Valdobbiade. È questa la dicitura della strada del vino più antica d'Italia. Istituita 52 anni fa, si compone di 120 km nel cuore del Veneto, impreziositi da piccole e grandi realtà vinicole che offrono al viaggiatore un'offerta enogastronomica e ricettiva davvero imbattibile. Chiaramente c'è un orgoglio e oltre all'orgoglio c'è chiaramente anche l'impegno per poter essere un po' trainanti per quanto riguarda il movimento delle strade del vino in Italia. Il convegno è legato a questo, è legato alla candidatura soprattutto per vedere se siamo pronti, per ospitare tutti i turisti che verranno eventualmente in più e soprattutto per portare la centralità delle strade del vino nel progetto enoturistico praticamente del nostro territorio. Molto importante in quanto il nostro scopo è quello di alzare un po' l'asticella sui servizi e sulla qualità soprattutto dei servizi che vengono dati e delle offerte turistiche che vengono date. In questo territorio credo che l'esperienza della strada è un'esperienza storica, forse da qui parte il concetto di enoturismo tantissimi anni fa, quindi credo che l'esperienza pilota poi ha fatto bene anche al resto del movimento delle strade del vino. Proprio la strada ha organizzato nei giorni scorsi un convegno per valutare le opportunità di sviluppo di un territorio che a fine giugno attende l'esito della domanda presentata all'UNESCO. Una preziosa opportunità per le colline trevigiane. Concentrare le forze e restituire un'immagine unita rimane in ogni caso la formula vincente. Ne è un esempio la strada del vino e dei sapori del Trentino. Il primo aspetto chiaramente è la formazione, ne abbiamo fatto tanta, dobbiamo farne ancora, soprattutto sul mettere in rete certe situazioni. La strada del vino su questo ha fatto un progetto molto importante che si chiama Le botteghe del gusto dove mette insieme quelle che sono le eccellenze della ristorazione e del territorio. Siamo arrivati nel 2013 a fondarci in un'unica strada al vino e con questa siamo riusciti a proporre un percorso e un'attività decisamente più funzionale e anche meglio organizzata, riuscendo a lavorare con tutti i soggetti del territorio. Il turista non percepisce assolutamente la differenza tra un percorso e l'altro. Il fatto di avere un unico interlocutore e riuscire a fare rete è un importante passo che siamo riusciti ad ottenere facendo questa fusione. Una regione, quella del Veneto, che conta 19 strade del vino e che ha avanzato strumenti e progetti per valorizzare ulteriormente la proposta enoturistica. La regione Veneto è disponibile a sostenere tutte quelle iniziative del territorio sia le strade del vino o dei prodotti tipici ma di qualunque anche associazione o ente che dimostri di fare strategia sul territorio e sinergia. L'enoturismo da questo punto di vista ci può dare una mano, le nuove normative aiutano questo percorso e anche la candidatura UNESCO può essere uno spunto per poter spingere quello che è un territorio bellissimo che deve coniugare il turismo, la cultura, l'architettura con i prodotti enogastronomici.